Anche il cielo di ottobre come quello di settembre ci dona un sacco di eventi interessanti e da non perdere. La cometa C2023A3 sarà osservabile verso metà mesi, la luna diventerà super il 17 e non mancheranno tante stelle cadenti e belle congiunzioni. Questo video fa parte di una collaborazione tra l'Omino delle Stelle e l'Unione Astrofili Italiane all'interno del progetto Occhi al Cielo, un e-magazine adatto per chiunque voglia avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Benvenute e benvenuti cari osservatrici e cari osservatori del cielo. Il primo di ottobre, alzandoci la mattina presto, relativamente presto dai, perché adesso l'alba oramai avviene ad orari diciamo umani, guardando verso est avvisteremo un piccolissimo falcetto di luna che ci dà il buongiorno basso basso all'orizzonte. Sulla destra di Selene, a poco più di una decina di gradi, immersa tra le luci del D che sta per raggiungere, c'è la cometa C2023A3, quella di cui avevamo già accenato il mese precedente. Non sarà per nulla facile da vedere, ma abbiate pazienza perché forse ci andrà meglio verso metà mese, quando sarà comodamente visibile la sera. Sopra di loro surge la costellazione zodiacale del Leone, con la bella Regolo, il cui nome deriva dal latino e significa principe. Osservando il cielo che si staglia a mezzogiorno, notiamo il luminoso esagono invernale, che con le sue brillanti stelle dona bellezza a queste prime settimane d'autunno e in compagnia delle quali troviamo Giove e Marte. Giove è dentro i confini del toro e lo si trova facilmente senza bisogno di conoscere stelle e costellazioni perché è l'astro più brillante in questa porzione di cielo, più brillante dalle stelle che formano il diamante celeste. Marte invece lo vediamo a sinistra di Giove dentro i gemelli, lo si riconosce per il suo tipico colore tendente al rosso. Ora, volgendo l'attenzione dalla parte opposta del cielo verso Settentrione, a nord-est riconosciamo il Grande Carro che durante il crepuscolo vedremo inerplicarsi sulla volta celeste, mentre a nord-ovest c'è la bella Cassiopea che nel frattempo si avvicina all'orizzonte senza mai toccarlo. Se osserviamo il cielo verso nord la sera ci accorgiamo subito subito che il quadretto si è invertito rispetto alla mattina e infatti verso nord-ovest notiamo l'orsa maggiore che col passare delle ore s'abbassa e tocca con le zampe l'orizzonte, mentre la bella Cassiopea s'arrampica sulla sfera celeste per dominare queste notti di ottobre in direzione nord-est. Continuando a osservare questa danza cosmica verso ovest la luminosa Arturo s'adage sull'orizzonte, seguita nel suo moto apparente dal triangolo estivo che ancora si staglia alto in cielo verso sud dopo il tramonto del sole. E mentre le ultime luci del vecchio giorno lasciano spazio all'oscura notte, Saturno tra est e sud-est ci mostra il suo splendore mentre s'allontana dall'orizzonte insieme a Pegaso e Andromeda che si trovano nei paraggi che ci riportano alla bella Cassiopea. Il secondo giorno del mese alle 20.49 la luna sarà nuova e alle 21.40 raggiungerà la massima distanza dalla Terra a 406.500 chilometri, apparendoci così, se la potessimo vedere, più piccola del solito. E dopo il 9 lunio, nei giorni seguenti, Selene comincia a farci compagnia al tramonto, tanto che domenica 6 ottobre, 45 minuti dopo che il sole ci avrà salutati, un falcetto di luna s'appropinqua la linea che separa il ciel dalla Terra verso sud-est, mentre a quasi 10 gradi sulla destra le fa compagnia Venere. Osservare il tramonto di questo 6 ottobre sarà un ottimo modo per individuare facilmente il pianeta che porta il nome della Dea dell'Amore. Il giorno dopo, lunedì 7, sempre al tramonto, vedremo Selene dentro i confini dello Scorpione, non molto lontana dalla stella più brillante dell'Arachnide zodiacale. Antares è quell'astro che, rispetto al nostro satellite, è in alto a sinistra. E dopo lo Scorpione, l'8 ottobre tocca allo Fiuco, la tredicesima costellazione dallo Zodiaco, ospitare la sempre più crescente luna. Lo farà per un solo giorno, perché il 9 sera la vedremo nel Sagittario, nei pressi di Chaos Media. Il giorno successivo, il 10 alle 20.55, la luna sarà illuminata per metà, mentre si trova ancora dentro i confini dell'arciere mitologico. Siamo appena entrati nella seconda decada di ottobre e, mentre ci stasiamo nel guardare i caldi colori di cui si tinge il tramonto, possiamo tentare di ammirare una cometa di cui avevamo parlato nel video del mese scorso, perché il 27 settembre aveva raggiunto il Perielio, la minima distanza dal Sole. La cometa è la C2023A3, Tsuxinshan Atlas, e ne parliamo anche in questo video, perché il 12 ottobre passerà la minima distanza dalla Terra, a circa 70 milioni di chilometri, infilandosi, dopo essere passata vicino al Sole, tra le orbite di Mercurio Venere, per poi tornare nelle regioni più remote del Sistema Solare. Il fatto che il 12 ottobre la C2023A3 raggiunga il Perigeo potrebbe farci pensare che la potremo osservare al suo massimo splendore. Purtroppo non è sempre così. Primo, perché dobbiamo considerare la sua posizione apparente rispetto al Sole e la distanza da noi. Secondo, perché ci possono essere fenomeni che ne aumentano la luminosità in altri momenti. Nel caso della nostra cometa, al Perigeo la vedremo sulla volta celeste non molto lontana da Elio. In termini osservativi significa che 45 minuti dopo il tramonto, del 12 ottobre, sarà visibile a poco più di 5 gradi dall'orizzonte, circa in direzione ovest. Attenzione, è molto molto probabile che non la vedremo così bella come nelle immagini di Stellarium. Oltre a quello detto poc'anzi, la luce del tramonto rende complicata l'osservazione e nei giorni successivi anche la luna, che diventa sempre più luminosa, disturberà la visione di questo astro crinito. Poiché le cometi si muovono rapidamente, noteremo la C2023A3 alzarsi di diversi gradi rispetto al giorno precedente sull'orizzonte. Il 14 ottobre, tre quarti d'ora dopo il tramonto del Sole, quasi verso ovest, c'è una stella Arturo, che grilla una ventina di gradi sull'orizzonte, mentre circa verso ovest basso sull'orizzonte c'è Venere. A metà strada tra i due astri potremo tentare di identificare la cometa, meglio se con un binocolo o un telescopio, attraverso i quali possiamo sperare di vedere una paffuta macchiolina. Se non riuscite a vedere la cometa potete sempre cogliere l'occasione, oltre che per guardare Venere che si avvicina all'orizzonte, anche per ammirare Saturno, a meno di un grado dalla Luna aggiposa crescente. Dopo il tramonto, individuata la Luna verso sud-est, il pianeta con gli anelli è quel punto luminoso che vediamo a meno di un grado in alto a sinistra di Selene. Pochi giorni dopo, mentre la cometa si è lontana, potremo assistere a una bella superluna. La vedremo sorgere tra est e nord-est, quando il Sole si è appena nascosto sotto l'orizzonte. Quando la Luna è bassa-bassa la vediamo più grande di quanto realmente è, per via di un effetto percettivo. Quindi quale momento migliore per ammirarla? La superluna non è altro che il prodotto di una concomitanza di due eventi astronomici. Selene alla minima distanza dalla Terra, fenomeno che cade alle 2.45 della mattina del 17, e il plenilunio che viene alle 13.26 dello stesso giorno. Quindi per godervi la superluna potrete guardarla sia prima dell'alba del 17, mentre lei si avvicina a tramontare verso ovest, che la sera. E mentre i giorni d'ottobre passano inesorabili, la cometa si allontana sempre più da noi, Venere salsa dall'orizzonte e ci avviciniamo al massimo delle stelle cadenti dette Orionidi. Uno sciame di stelle cadenti che dura dal 26 settembre fino al 22 novembre e il cui massimo quest'anno cade verso le 20 del 20 ottobre. Potremmo goderci l'evento sia la mattina stessa che quella del 21, qualche ora prima dell'alba, quando la costellazione di Orione, dove si trova il radiante, cioè il punto da cui sembrano provenire le scie luminose delle stelle cadenti, raggiunge la sua massima altezza. Purtroppo lo sciame non è dei più cospicui, circa 10-20 meteore all'ora durante il massimo in condizioni ottimali. Inoltre quest'anno la luna ancora bella paffutella disturberà non poco le osservazioni, ma se riuscirete a vedere una stella cadente in questi giorni, molto probabilmente sarà un piccolo sassolino lasciato dalla cometa più famosa, la Halley. Già, perché lo sciame delle Orionidi insieme a quello delle Ita Aquaridi in maggio sono prodotti dai detriti lasciati lungo l'orbita dalla Halley. Il 21 mattina Giove brillerà in basso e sinistro di una bella luna gibbosa calante, quando entrambi gli astri si troveranno dentro i confini della meravigliosa costellazione del Toro. Qualche giorno dopo, il 24, sempre al crepuscolo del mattino, la luna sarà nei gemelli, non molto lontano da Marte, che brillerà in basso a destra. Stesso giorno, verso le 10 della mattina, il nostro satellite raggiungerà la fase dell'ultimo quarto, momento che potremo vedere facilmente perché la luna sarà sopra l'orizzonte per tutta la mattina. E dopo i gemelli, i seleni si tuffa tra le chele del Cancro, dove il 25 prima dell'alba verso sud-est disterà circa 5 gradi dall'ammasso del presepe, bello da vedere anche con un binocolo. Nella sequenza dello zodiaco, al Cancro segue il leone, la cristella più brillante è Regolo, che avevamo già incontrato inizio mese, quando parlavamo della cometa. A crepuscoli del mattino del 25 e 26 ottobre, guardando verso sud-est, Regolo sarà in compagnia di un piacevole spicchio di luna calante. Nel contempo potremo notare che la stella più luminosa del leone si trova più alta sull'orizzonte rispetto all'inizio del mese. Osservare queste sottigliezze aiuta a comprendere il moto apparente della volta celeste e quindi a capire come mai le costellazioni cambiano durante le stagioni. Qualche giorno dopo, il 29, la luna torna alla massima distanza dalla Terra, ma stavolta non sarà nuova. E così, alla fine di questo decimo mese dell'anno, prima che i raggi della nostra stella scaldino e illuminino le città, guardando in alto in cielo verso sud vedremo Castore, Polluce e Marte belli allineati, mentre Giove resta lì incastonato tra le corna del toro. La sera, quando l'ultimo sole d'ottobre ci saluta, scorgeremo Venere già a circa 5 gradi in direzione sud-ovest, mentre Saturno verso sud-est le fa compagnia debito a distanza. Siamo arrivati al termine di questo altro mese pieno di appuntamenti interessanti col cielo. Io sono Luca, se vuoi supportare questo progetto di esplorazione delle meraviglie del cielo, metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. E ora non mi resta che augurarti, come sempre, buonanotte e buone stelle.